Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 25 maggio e ben ritrovati cari telespettatori, come sempre siamo tantissimi al mattino, presto per dare un'occhiata, sfogliare insieme i giornali e vedere quali sono le notizie più importanti che troverete sui giornali in edicola. Cominciamo dal santo del giorno, il santo di oggi, vediamolo subito, oggi è San Gregorio VII, è stato un papa, il sole è sorto alle 5.32, tramonterà le 20.38, vediamo subito il tempo per la mattinata di oggi, la grafica della protezione civile delle Marche, questo è il bollettino per la giornata di giovedì. Chiaramente la grafica si riferisce alla mattinata, ma già per chi sta nella provincia di Peso Urbino, insomma tutta questa pioggia che comunque si è sentita nella notte, le precipitazioni stanno scivolando giù verso il sud della regione, comunque al primo mattino avremo ancora rovescio temporale diffusi, anche di forte intensità, in particolare lungo la costa. Fenomeni in graduale esaurimento nel corso della mattinata, le temperature sono in diminuzione. Allora, i venti avremo ancora venti freschi, perché insomma si disporranno dal nord-ovest, poi nel corso della mattinata si attenueranno fino a brezza leggera. Per la giornata di domani, ma anche quella di sabato, il tempo migliora, avremo cielo sereno, con temperature stazionarie o lieve. Aumento sabato, ecco qua la prima vera giornata probabilmente estiva che incontreremo sia sabato che domenica, perché il tempo, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso. Allora, cominciamo a leggere i giornali, partiamo dal resto del Carlino. A centro pagina la fotografia della Coldiretti, che ha aperto quattro mercatini, ma ha fatto andare su tutte le furie le associazioni dei commercianti, che adesso se la prendono con il comune di Pesaro. E poi la storia di una donna picchiata davanti alla figlia, un ex commerciante finisce in manette, lei fugge da una finestra, si rifugia da un vicino e poi chiama i carabinieri. E poi sempre in prima pagina i dipendenti della provincia, travolti dalla faida del PD, Ceriscioli è nel mirino. E la manifestazione a Roma con la rivolta dei presidi, inadeguate le risorse per la scuola. E poi si parla sempre dei furti. Ieri la Prefettura ha fatto sapere che c'è un calo di furti, di circa un migliaio di furti, in un periodo ben preciso rispetto all'anno precedente. Beh, insomma, questi dati hanno fatto un po' sobbalzare dalle sedie sindacalisti, sindacati di polizia, che rilanciano però l'allarme sicurezza. Allora, la pagina di Fano del resto del Carlino, sull'aeroporto, la finanza ha già i file audio, le registrazioni sono state acquisite, intanto la Commissione Comunale arranca, lo stesso Santorelli ha inviato tutto alla Procura. Santorelli, Gianluca Santorelli, che dice nel momento in cui è stata resa pubblica la notizia, insomma, di questi file, ho ritenuto opportuno inviare la registrazione alla Guardia di Finanza, che comunque ne conosceva già l'esistenza, e il contenuto dal momento che è esattamente quanto ho deposto, quando sono stato convocato come persona informata sui fatti. E poi il rebus, questo è veramente incredibile, del ponte, quello dal quale si sono staccati i calcinacci l'altro giorno, e che ha costretto, in via precauzionale, a chiudere l'accesso all'entrata e all'uscita, quindi, l'autostrada, il casello di Fano. La cosa incredibile è che nessuno sa a chi appartiene questo ponte che si, tra virgolette, dove si sono staccati i calcinacci, dal quale si sono staccati i calcinacci. Il Comune insiste, noi abbiamo trovato i documenti che ci sollevano dalla competenza. Insomma, martedì c'è una riunione per capire di chi è questo benedetto ponte. Poi, sulla pagina 13 del carino di questa mattina, c'è anche la notizia che in Consiglio, torna oggi, in Consiglio Comunale, la contrastata delibera sui contributi di 90 mila euro da destinare al Fano Calcio per ulteriori lavori di adeguamento al campo sportivo, quello che si trova a San Lazzaro. E Riccardo Severi, Riccardo Severi che da sempre si è detto contrario, ha sollevato eccezioni formali e anche etiche su questi 90 mila euro e che si chiede perché deve essere il Consiglio a deliberare il pagamento quando c'è il parere contrario di due dirigenti, che sono quelli dei lavori pubblici e quelli allo sport. E poi, insomma, Severi, leggete sul titolo, vedete, tuona su tutto, oggi la delibera sui contributi, quindi torna in Consiglio. E cita anche, per esempio, l'erbaccia altissima che si trova spessissimo in molte piste ciclabili della città di Fano. Ora, sapete che c'è l'obbligo di vaccinare i bambini, adesso è diventata lì, c'è un obbligo, quindi i bambini, se volete mandarli all'esito, devono essere vaccinati e quindi adesso scatta questa corsa alla vaccinazione, l'Asur è in difficoltà, parla il responsabile provinciale dell'Asur, Massimo Agostini, che dice, era sicura, stiamo cercando di rispondere a tutte le richieste. Perché? Perché dopo il decreto c'è chi vuole mettersi in regola. Attenzione a meningite e morbillo. Allora, sapete che con il decreto Lorenzin, oltre all'antipolio, alla difterite, al tetano, all'epatite B, già obbligatori, si aggiungeranno l'antipertosse, l'emofilo B, il meningococco B e C, che è la meningite, morbillo, parotite, rosolia e varicella. Questi sono quelli che si aggiungono, i vaccini che si aggiungono. Saranno gratuiti. A Fanno Pesaro Urbino, ormai si vaccina, dice Agostini. Tutti i giorni. Calano i furti, ma cresce la paura. Se la Prefettura offre dati rassicuranti, i sindacati di polizia avvertono, il momento è critico, i due sindacalisti, l'ansia e frega, dicono, le istituzioni ascoltino di più gli allarmi. Serve la certezza delle pene. È inutile che questi vengono rimpatriati, portati sull'aereo, poi se ne stanno una settimana, dieci giorni nel loro paese d'origine, poi, tac, ritornano zitti zitti. Poi, la notizia che una coppia di Rom al supermercato Simpli di Vallefoglia era alla cassa, con 8 euro pretendevano di portarsi a casa una spesa del valore di 230 euro, uno è stato arrestato per furto, l'altro è scappata, è una riuscita a fuggire, e adesso è uccell di bosco. Allora, anche sul Corriere Adriatico c'è la notizia, pagina 3 dei dati fatti uscire ieri dalla Prefettura di Pesaro Urbino, sono crollati i furti, ma anche le denunce e distingua dei sindacati di Polizia sui dati diffusi dalla Prefettura. Il sindaco Ricci continueremo a investire sulla videosorveglianza. Ora, la pagina di Pesaro dedica due pagine, la pagina 2 e la pagina 3 ha due storie di violenza sulle donne. Noi leggiamo a pagina 2 quella che riguarda un processo, il titolo è Tu sei mia, botte e persecuzioni per Maria, che è un nome chiaramente di fantasia, questa donna è originaria della Campania ma è residente a Urbino da anni, per Maria un inferno lungo pensate 12 anni, alla sbarra l'ex marito, manesco anche dopo una condanna, era stato denunciato nel 2014, due anni di carcere, però la violenza non si è fermata, lei ha continuato a denunciarlo, sentite che cose orribili diceva questo qua, ti squarcio la pancia, mi prendo tuo figlio e me lo porto via, guardati fai schifo, cioè siamo a questi livelli e questo è quello che ha raccontato durante il processo, lui 37enne, origini turche, ex titolare di un locale a Urbino, ma dicevamo dell'altra storia di violenza che prendiamo però dal Corriere Adriatico, troppo violento, vuole lasciarlo, lui la massacra a pugni e schiaffi, è successo intorno alle 8 di martedì dell'altro giorno, è arrivata questa chiamata ai carabinieri del nucleo investigativo radiomobile, la donna, lei sulla Trentina, lui sulla settantina, quindi dalla coppia è nata una bambina, insomma, l'uomo è stato arrestato per lesioni gravi, ai carabinieri ha detto che la moglie era caduta perché ubriaca, la donna è stata costretta martedì a rifugiarsi dalla vicina di casa per salvarsi e quindi questa è la storia di questa aggressione di questa donna che era in casa con la figlia piccola e che ha subito l'ennesima violenza. Tutti i dettagli e tutti i particolari nei quotidiani Carlino e Corriere di questa mattina. La prima pagina del Corriere Adriatico la vediamo velocemente, anche qui vedete la cronaca, poi l'extraspa depositata all'istanza di fallimento, allora andiamo a vedere subito la pagina di Fano, il responsabile dei lavori di costruzione del centro sportivo rivendica ancora l'onorario di 134 mila euro complessivi, quindi deve avere ancora dei soldi, percepì solo un anticipo dieci anni fa, poi non vide più una lira. L'istanza chiede di verificare l'esistenza di una super società di fatto. Ecco l'assetto e qui ci sono tutti i dettagli. Posti letto dal pubblico al privato, Massimo Seri, il sindaco di Fano, ora si opponga alla clinica, lo chiedono con una mozione ai 5 stelle di Fano che si scagliano contro il disegno della regione, rilanciate le parole del sindaco. A Pesaro invece sono state danneggiate, hanno messo la sabbia dentro, nei serbatoi delle ruspe, quelle che stanno facendo il ripascimento delle spiagge e quindi adesso sono un po' in ritardo, in leggero ritardo, è colpa dei vandali che appunto hanno messo questa sabbia nei serbatoi. Da Urbino invece ancora questa diatriba tra il PD Vittorio Sgarbi sulla questa pala del Barocci di cui era stato tagliato il volto del bambino, insomma accusi all'assessore, troppe sviste e un programma rimasto sulla carta. Dalla Valle del Cesano invece morso da una scolopendra e portato in ospedale. Ora io stamattina quando ho letto scolopendra ho detto adesso che animalaccio che roba sarà ignorante quindi non lo conosco poi sono andato a vedere adesso ve lo faccio vedere su internet e vi faccio vedere che cos'è questa scolopendra però prima devo finire di leggere il file il pdf se no poi si sballa tutto. Allarme sul Catria per un operaio che lavorava allo ski lift gli si è gonfiato il polpaccio la scolopendra sembra uscito dalla vegetazione ha morso questo signore quarantenne senza che se ne accorgesse provocandogli un grosso ematoma dunque è stato soccorso e portato ecco il centro è stato medicato sulla pagina principale della Valle del Cesano il riscaldamento più efficiente e pavimentazione resa sicura c'è stato a Mondolfo un sopralluogo di lavori di ristrutturazione della casa di riposo Carradorini andiamo e chiudiamo con la pagina di Senigallia telecamere rotte e senza campo nessuna immagine sui colpi messi a segno negli ultimi giorni alla Cesanella e al distributore Kuwait gli imprenditori si sentono indifesi diteci che cosa volete fare per arginare la criminalità che dilaga allora andiamo a vedere sperando che sia rimasta in memoria non è rimasta in memoria scolo scolo prendere vediamola qua eccola qui la vedete eccola qua fa impressione va beh questa è è stato morso da questo da questo insetto ecco un po' piccolino così almeno non fa impressione ecco lo vedete da questo insetto il insetto non è maletto ce ne sono tantissimi in giro ce ne sono soprattutto campagne ovunque allora noi ci fermiamo qui vi vi do appuntamento stasera alle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia e se durante il giorno vi capita di segnalarci qualche cosa che potrebbe essere interessante per la nostra redazione sapete il nostro numero di telefono l'avete appena visto mandateci foto video o semplicemente un messaggio di testo con whatsapp e noi ci metteremo in moto per darvi poi le informazioni necessarie nel telegiornale delle 20 e 30 grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti